Sono convinta che la ragione per la quale si sta facendo qualsiasi cosa possibile per bloccare questo protocollo è che tutti capiscono che è una chiave di volta nella gestione dei flussi di immigrati irregolari. Non solamente italiani, per questo c'è tanta attenzione da parte europea, per questo mentre da sinistra, dall'inizio, sono andati a rincorrere tutti i leader europei per chiedergli di dire che questa cosa violava il diritto internazionale, anche se la giurisdizione che viene applicata è quella italiana e quindi europea. L'Europa invece guarda con interesse e nell'ultima lettera di Ursula von der Leyen si fa specifico riferimento alle soluzioni innovative che vuol dire il protocollo Italia-Albania. Perché? Perché se tu, migrante irregolare, che paghi gli scafisti e arrivi in Italia, ma tendenzialmente vuoi andare in Germania, vuoi andare soprattutto nelle nazioni, insomma le conosciamo, ti ritrovi fuori dai confini europei e questo è il più grande deterrente che tu puoi mettere in campo. È la prima volta che i trafficanti di esseri umani mi hanno minacciato di morte. Cioè è un elemento fondamentale per smontare questo business. Cioè è un elemento fondamentale per smontare questo business.